Ciao a tutti! Oggi un videotag, un videotag che ho visto da Read Vlog Repeat di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione. Io l'ho rinominato Gli Oscuri Segreti della mia libreria perché un po' è stato divertente preparare i libri per questo tag perché ti spinge a cercare, a spulciare tra i vari titoli scoprendo molto spesso anche determinate chicche che ti erano un po' sfuggite all'occhio. In realtà questo tag si chiama Bookshelf Book Tag dove la protagonista è naturalmente la nostra amata libreria e invito anche tutti voi a dirmi le vostre risposte. Le domande sono tante quindi partirei senza indugio con la prima. Descrivi la tua libreria dove l'hai presa. Allora ragazzi qua è complicata la situazione perché voi ne vedete sempre una ma in realtà non ne ho solo una perché non ci sarebbero tutti i libri. Ho questa che è quella dedicata alla narrativa, poi ne ho una contemporanea, tutta contemporanea questa, divisa per aree geografiche e quindi rispondo anche alla domanda 2 che è come organizzi i tuoi libri. Allora li organizzo per aree tematiche e tendo a metterli in ordine alfabetico non riuscendoci e quindi cerco di metterli in ordine alfabetico e avvicinando edizioni che si assomigliano in sostanza. Qua avete tutta la narrativa contemporanea. Qui, che non potrete mai vedere perché è davanti a me, c'è la libreria dei classici. Qui, laggiù in fondo, non mostro con la telecamera perché c'è un disagio là dietro, c'è quella delle graphic novel, poi c'è là dietro graphic novel e illustrati, poi là dietro ancora troverete i saggi e lì c'è la libreria sotto il comodino dei rimasugli, cioè libri che non ci stanno ed è un po' casuale l'ordine. Poi ho altri libri disseminati in casa, insomma un disagio. Da dove vengono queste librerie? Ad Ikea. C'è nessun segreto. Nessun dolore! Semplice, semplice come niente. Poi, qual è il romanzo più lungo che hai in libreria? Allora, naturalmente questo colosso qui, ovvero il nostro amato Infinite Jest di David Foster Wallace. 1.300 pagine è un colosso che mi riprometto tutte le volte di leggere e che non riesco mai a leggere, nonostante sia il primo libro in cima alla mia wishlist da anni, perché devo essere preparato. Ogni volta che lo prendo leggo una pagina e poi dico, no ragazzi, è too much, ma non per la mole, perché non lo so, devo sentire lo spirito giusto. Poi so che è un romanzo estremamente complesso, quindi il mio terrore è arrivare a metà e poi dire basta e abbandonarlo lì. È una cosa che non voglio assolutamente fare e quindi devo trovare il momento giusto. Di contro, il libro più corto che hai. Il libro più corto che ho è molto particolare. Mi è stato regalato dal mio caro amico Stefano, che saluto, ed è Avere la bicicletta di Fulvio Tomizza. Allora, a parte che è complicata qua la questione Luci, ma comunque questo libro fa parte di un catalogo di una casa editrice molto particolare che si chiama Harry Bale. Sono edizioni numerate con le pagine da tagliare con l'apposito taglierino. Questo raccontino in particolare, perché è un raccontino, io dico che è un romanzo, ma semplicemente per il fatto che è un'edizione singola di 19 pagine, è un oggetto da collezione principalmente ed è un raccontino che riguarda i privilegi di avere nei primi anni del Novecento, credo comunque nella prima metà del Novecento, una bicicletta. E quindi anche un privilegio che in pochi avevano, no? E che ha avuto per l'autore una grande importanza, anche durante l'adolescenza, per fare conquiste, per svagarsi. E Fulvio Tomizza racconta tutto questo con estrema nostalgia. È un racconto molto carino, autobiografico, che appunto è molto molto breve. Sono 19 pagine scritte in grande, quindi se trascritto secondo me ci sta benissimo in un foglio A4 e basta. Però ci sta. Se amate questo tipo di edizioni molto particolari, che tra l'altro vengono presentate in busta, Nella busta è presente il libro con il catalogo e con un segnalibro. Il taglierino dovete averlo voi, io ce l'avevo perché mi è stato anche quello regalato. Poi, un libro che ti è stato regalato al compleanno. È un libro che ammetto di non aver ancora letto di un autore che non ho mai affrontato. L'autore è israeliano ed è Benjamin Tammuz. Questo libro mi è stato regalato dalla mia amica Bea, che saluto, le mando un bacione. Ed è Il Minotauro, che viene descritta come una spy story d'autore. In verità la mia amica mi ha detto che non è per niente così, ma che si tratta di una meravigliosa lettura. Essendo anche molto breve, potrebbe essere questo video un'occasione per andarlo a recuperare magari. Eh Matteo, che dici? Tanto spostiamoci un po'. Oh, che è tutto più illuminato e quindi non si vedrà un tubo delle copertine. Ma va bene così. Poi, un libro che ti è stato dato da un amico. Allora, qua è grama la situazione perché dopo c'è un libro che ha un colosso e probabilmente alcuni di voi capiranno cos'è. Un libro che mi è stato regalato da un amico. Allora, più che amico è mia cugina. Però è un libro che per me ha un'estrema importanza perché è stata una di quelle letture che mi ha avvicinato alla passione per la lettura. Ed è un libro molto frivolo, in verità, ma non per questo non intelligente. Il libro in questione è A spasso con Anselm di Giuseppe Culicchia. Ed è un libro carinissimo dell'autore, che è il protagonista del libro, e della sua amicizia con Anselm, che è questo formicchiere qua. Un formicchiere molto particolare perché è un formicchiere punk, impegnato politicamente. E appunto i due saranno protagonisti di alcune bizzarre avventure molto divertenti. Ricordo di averlo letto all'elementare, credo, e mi era piaciuto parecchio. Tuttora ne conservo un bellissimo ricordo. Poi, il libro più costoso che possiedi, che finalmente è mio perché mi è stato regalato da Jacopo, ed è il Codex, il Codex Serafinianus, che per il video in cui ve l'ho presentato l'ho preso in biblioteca e dopo pochi giorni mi è giunto il regalo. Io tipo, oh, meraviglioso. Se non avete visto il mio video sappiate solo che è un'enciclopedia aliena. Ebbene sì, infatti è tutta letteralmente scritta in un alfabeto intraducibile. È un'enciclopedia su un mondo altro, su un mondo surreale, ad opera di Luigi Serafini, apprezzatissimo artista nostrano, il cui libro Codex Serafinianus è anche stato molto apprezzato da personalità quali Italo, Calvino e Tim Burton. Insomma, mica pizza e fichi, ecco. Voi sapete quanto io ami questo libro, ed è un libro che costa un bel po'. Quindi sono contento che mi sia stato regalato, è un regalo straordinario. Poi, l'ultimo libro che hai letto. L'ultimo libro che ho letto è un libro bellissimo, secondo me, ed è edito da Contrasto. L'ho preso a tempo di libri ed è un fitto mistero. Un fitto mistero che fa parte di una collana di libri della Contrasto. Voi sapete che la Contrasto è una casa editrice che si focalizza su libri dedicati alla fotografia. Hanno anche questa collana in cui fanno un mix tra fotografia e saggio, saggio barra racconti. Quindi una fotografia di tipo letterario. Questo libro di De Cataldo, Giancarlo De Cataldo, autore di Romanzo Criminale, è un saggio che indaga tutti i più efferati crimini dal fine Ottocento, in realtà, perché c'è anche Jack lo Squartatore, a oggi, che hanno avuto forte risonanza nei media. Vengono presentati, l'autore li commenta, è molto interessante, anche perché si affrontano anche grossi punti chiave della nostra storia. Direi che è un libro abbastanza completo. Mancano alcune storie cruente che tutti conosciamo, ma in linea generale è molto molto completo e super interessante. Se siete appassionati di true crime, questo vi gazerà particolarmente. Hai completato qualche serie? Harry Potter, è l'unica serie che mi viene in mente, perché per il resto io non sono un amante delle serie, sono fan del libro autoconclusivo, del romanzo a sé. Credo che le poche serie che ho iniziato non le ho mai finite. Harry Potter invece sì, quindi nominerò lui, che fa sempre bene. Qual è l'ultimo arrivato nella tua libreria? Ne devo nominare due perché li ho comprati assieme e sono. Uno è questo saggio, l'edito Minimum Fax, che è accanto alla macchina, di Ellen Ullman. È il racconto, in prima persona, della scrittrice che ha lavorato alla Silicon Valley. Quindi già il tema mi interessa molto. È da retro copertina che sembra scritto anche in tono abbastanza cinico, divertito, quasi a significare che in realtà lavorare alla Silicon Valley non è proprio rosa e fiori, insomma ti devi arrangiare in qualche modo. Quindi sono curioso di vedere dove vada a parare e sarà una delle prossime letture. L'altro libro invece è Maschio bianco etero, di John Neven. John Neven è un autore scozzese che io conosco solo di fama, non ho mai letto nulla di suo. È famoso principalmente per A Volte Ritorno, che è un libro che tratta della seconda venuta del Messia, però in chiave hipster, strana, alternative. È un autore che è molto noto per la sua ironia, di cui ho sempre voluto leggere qualcosa. E quindi io sono partito da questo, perché lo trovo, dal retro almeno, lo trovo un libro molto ironico sulla nuova figura dell'uomo contemporaneo. Un po' scansafatiche, ma con grande ironia. E io spero che sia uno di quei libri ironici e senza peli sulla lingua dove ti riconosci. Perché mi piacciono i libri che sono scomodi, ti mettono in discussione. Quindi spero di trarne beneficio letterario. Poi, qual è il libro più vecchio che possiedi? Non ne ho idea, in realtà, del più vecchio in assoluto, ma io nomino questo, che è Nuvole di Sera, di Junzo Shono. È un libro di un autore giapponese che è stato tradotto in Italia per una casa editrice, che è Lapperro Edizioni. Questo libro, che è un po' il classico libro giapponese, se vi piacciono le cose tipo Guanciale d'Erba, di Natsume Soseki, un po' rarefatte, familiari, è stato tradotto in Italia nel 1961 e poi mai più. Tant'è che ora è reperibile solo in inglese e credo che sia anche fuori catalogo la versione in inglese. Io questo libro ce l'ho, invece. Da amante della letteratura giapponese ne sono abbastanza geloso. Nonostante sia un libro vecchio, è praticamente nuovo, nel senso che sembra veramente di appena comprato. In realtà l'ho preso al libraccio a un euro. Tra l'altro c'è anche la dedica, Natale 62, con tanto affetto Gianna. E io spero che questa Gianna venga a sapere che io ho il suo libro. O la persona che l'ha regalato l'ha venduto, mannaggia lui. Vabbè, comunque, un libro che non vorresti mai perdere di vista. Guardate, ve lo faccio anche solo vedere se lo ritrovo. Ma l'ho preso, almeno. Non l'ho preso. L'ho perduto talmente di vista che c'ha una. Ma dove l'ho messo? Ah, è qua. Ma voi sapete che cos'è? Sapete che cos'è? Non l'ho neanche preparato perché lo davo per scontato. Lo vedrete specchiato, ma non importa. La nausea di Sartre! Basta, Matteo, basta. Lo sappiamo. Hai rotto le scatole. Un libro del tuo colore preferito. Io mi sono perso con queste domande. Ho schippato qualche domanda, va bene così. Hai un libro del tuo colore preferito? Sì. Petrolio di Pasolini. Tutto nero. Nero è il mio colore preferito. Ebbene sì. Petrolio è un libro che ho letto in seconda liceo con forse eccessiva anticipazione. Cioè, nel senso, avrei dovuto aspettare un po' per leggerlo. Perché è un libro estremamente complesso. È considerata dallo stesso Pasolini la sua opera omnia. Tuttavia, è incompleto. È rimasto incompleto appunto per la tragica fine che Pasolini ha subito e di cui conosciamo, conosciamo, ne conosciamo tutti. Questo libro è purtroppo incompleto. È potenzialmente una lettura straordinaria. L'unico problema è che mancano proprio dei pezzi. Che tuttavia, in questa edizione degli Oscar Mondadori, sono stati sostituiti dagli appunti di Pasolini sulla creazione di questo libro, che avrebbe dovuto occupargli l'intera vita. Quindi, insomma, un testo decisamente impegnativo. Se amate Pasolini, non vi consiglio di partire da questo. Partite magari da Teorema, che è un libro decisamente più approcciabile ed è anche il mio preferito dall'autore. Poi, il libro più rovinato che hai. Ah, qua sono preparatissimo. Perché io tengo bene i libri. Questo invece, purtroppo, no. Ma non per colpa mia, ma perché l'ho comprato usato. L'avevo pagato un euro. Anche questo in un mercatino dell'usato. Siddhartha di Armanès. Che sembra perfetto, ma guardate la costina. Tra l'altro, lo scotch qui l'ho messo io perché era tutto aperto e qua è pure umido. Cioè, deve avere vissuto chissà quali inferni questo povero libro che probabilmente apparteneva a un ragazzino che l'ha dovuto comprare per la scuola e poi l'ha venduto spudratamente. È un libro che amo molto. Mi è piaciuto molto e ogni tanto me lo rileggo anche volentieri perché ti infonde questa calma zen spirituale. Ci sta. Non piace a tutti, lo so, a me sì però. Un libro immacolato. Vabbè, io lo nomino semplicemente per la copertina ed è il libro più immacolato che io conosca almeno dal punto di vista grafico ovvero Il Giovane Holden. Un must per ogni adolescente trasgri che si rispetti oltre che uno splendido romanzo che dovrebbe far parte delle biblioteche di tutti. Un libro che non ti appartiene. Questo qui. Si tratta di Arrivederci tra le stelle di Jack Chang un libro che non ho ancora letto me l'ha prestato Ilenia non ditele che non l'ho ancora iniziato o mi uccide. No, in verità in verità appena lo leggo veramente glielo restituisco perché io sono abbastanza critico su queste cose e devo restituire i libri. Però sto aspettando il momento adatto. So che è uno young adult molto carino molto delicato ha anche una storia abbastanza particolare il rapporto con il cielo gli alieni è un coming of age che potenzialmente potrebbe essere un ottimo candidato per la rubrica libri young adult ovvero i libri per ragazzi che vi consiglio. Quindi in realtà aspetto il momento di una lettura leggera e non trash per poterlo leggere. Poi un libro che è nella tua biblioteca da decenni e che non hai ancora letto e sto parlando di American Psycho di British Tonellis che in realtà io lessi alle medie nel senso una buona parte almeno non ricordo se l'avessi finito o no perché l'ho letto alle medie e mi sembra di averlo abbandonato in realtà perché avevo visto il film poi perché l'avevo preso in biblioteca mi era scaluto il prestito l'ho riportato indietro poi l'ho comprato con l'intenzione di leggermelo è l'unico libro di British Tonellis che mi manca e pur essendo il suo famoso il suo più famoso non l'ho ancora letto e direi che è il caso di farlo. Poi nella tua libreria qual è il libro che hai letto per primo? Non sono sicuro che sia il primo ma è impossibile non nominare La Società dei Gatti Assassini che è un horror è un vero e proprio horror secondo me non per ragazzini ve ne ho già parlato abbondantemente è stato uno dei miei must dell'infanzia però l'ho letto non so quante volte e mi ha messo i brividi e anche a ricordarmi la storia mi aveva messo i brividi per chi non lo sapesse è un horror che tratta che ha tutti i protagonisti gatti e che pensano e ragionano da gatti e il protagonista principale è Francis e deve indagare sulle misteriose uccisioni di alcune gatte incinte per opera di una setta sì è proprio un libro per bambini mi raccomando consigliatelo ai vostri pargoli a me ha fatto venire gli incubi ma lo adoravo stavo sotto le coperte con la torcia e poi l'ultima domanda hai dei libri autografati? sì il primo che mi viene venuto in mente è questo che è l'arte della fuga ve ne ho abbondantemente parlato libro di Friedrich Sjöberg autore della trilogia del collezionismo di cui fanno parte l'arte di collezionare mosche il re dell'uvetta e appunto l'arte della fuga l'arte della fuga si concentra su un pittore che è collezionista di paesaggi ed è un libro bellissimo di cui vi ho già parlato abbondantemente io ero andato a un evento in Perborea in cui lui era presente per rispondere a delle domande su cui vi ho fatto anche un video ed eccola qui la sua dedichina insomma lui è un uomo straordinario uno scrittore straordinario in grado di miscelare con grande maestria fiction biografia saggio scientifico insomma è un collezionista anche di stili e lo trovo meraviglioso è uno dei miei autori preferiti praticamente da quando l'ho scoperto e niente questi sono i segreti truci della mia libreria Matteo no fatemi sapere i vostri e non siate sudoli in questo caso perché voglio sapere tutto ciò che concerne i vostri averi bibliografici io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video e muah ciao 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 ciao